È un'emozione grande insomma perché neanche io mi aspettavo di diventare campione del mondo, pensavo magari di montare il podio ma è stata una sorpresa anche per me essere qua. Festeggiato, ammirato e applaudito dalla comunità di Cassola che conserva gelosamente nella sala giunta del municipio la sua maglia iridata. Era il settembre 2009 quando Dario Sonda, appena diciottenne, in quei giorni fresco campione del mondo Juniors di Scratch, una specialità su pista, rilasciava questa intervista alla nostra emittente. La stessa comunità di Cassola adesso piange la perdita del suo giovanissimo cittadino, morto a soli 31 anni per le conseguenze di un tragico incidente stradale. Dario Sonda si è spento domenica pomeriggio all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove era arrivato venerdì sera in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'auto mentre viaggiava su suo scooter in via Portile al confine con Romano Dezzelino a pochi metri dalla sua abitazione. Una tragedia che ha fatto piombare nello sconforto la famiglia di Sonda. Appiangelo la moglie con i due figli di 1 e 3 anni, la mamma e la sorella, ma anche tutto il mondo del ciclismo che ancora ricorda le sue vittorie nella categoria Under 23. Un mondo che Sonda aveva lasciato per problemi fisici per avvicinarsi poi al mondo dei motori. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale sull'incidente e stanno indagando i carabinieri.